Buongiorno Davide, ho puntata frizzantina, oggi 30 luglio c'è un caldo devastante, tra l'altro ho i capelli, che cacchio di capelli ho? Super Saiyan, tu hai qui pochi che mi rimangono. Vabbè, comunque oggi è la puntata, la penultima puntata del podcastone, del buongiornone e quindi cerchiamo di farla bene, cerchiamo di andare più nel dettaglio tecnico di alcune cose. Ho due news che secondo me piaceranno agli appassionati di IT, di PC, insomma, perché una riguarda una distribuzione Linux italiana, made in Italy, born in the IT Italy, insomma, parlo di vaniglia OS. E poi c'è un caso incredibile che ruota attorno ai processori Intel, è il fatto che si spaccano. I processori Intel delle ultime due generazioni si rompono, perché? Perché c'è un difetto proprio nel microcode. Che cos'è il microcode? Ve lo scoprirete seguendo questa puntata che dovete guardare, perché naturalmente vi devo spiegare una cosa. E cosa faccio quando vi devo spiegare una cosa? E faccio i disegnini. Ho fatto il disegnino, quindi vi beccate il disegnino per capire che cos'è il microcode, o microcode, o microcodice. Vabbè, quella roba lì per capire che diavolo si è spaccato nei processori di Intel. Ma aspetta, aspetta, piccolissimo, velocissimo aggiornamento su CrowdStrike, perché adesso la situazione sta tornando lentamente alla normalità dappertutto. Naturalmente, disclaimer, se non sapete di che diavolo sto parlando, cercate CrowdStrike sul mio canale, vi recuperate le puntate in cui non ho parlato nel dettaglio e capite la vicenda CrowdStrike di cui parlo. Ma comunque, come piccolo aggiornamento, si è espresso ufficialmente anche Microsoft, ha confermato l'analisi di CrowdStrike stessa, cioè ha detto che questa roba è dovuta effettivamente a un fallimento, a un failure del kernel driver di CrowdStrike, quel csagent.sys che avevamo visto nella scorsa puntata. Insomma, quella roba lì fallisce leggendo un file corrotto, c'è un out of bound exception in memoria, e quindi tutto il kernel fallisce, boot loop, eccetera, eccetera. E partendo proprio da questa analisi, Microsoft ha aggiunto che adesso lavorerà insieme a tutti questi produttori di terze parti, che scrivono driver per il kernel, quindi compresi gli EDR, compresi molti antivirus, compresi anche molti anti-cheat per videogiochi, perché non dimentichiamo, come mi hanno segnalato gentilmente su Mastodon, che ci sono anche degli anti-cheat per videogiochi che funzionano in kernel mode e potrebbero potenzialmente spaccare tutto. Insomma, lavorerà Microsoft insieme a tutti questi produttori per assicurarsi che siano rispettate una serie di linee guida perché non succedano più fatti simili. Per esempio, cercare di spostare tutte le attività che non richiedono privilegi critici, non richiedono di essere eseguiti in kernel mode, invece in user mode, in user space, insomma, per spostare questa roba qua, compreso il parsing dei file, ecco, in un'area di memoria che non comporti il crash del sistema quando qualcosa va male, ecco, insieme a una serie di altre linee guida. E questo post lo trovate sul blog di Windows, intitola, adesso ve lo dico, Windows Security Best Practices for Integrating and Managing Security Tools. Ecco, questo blog post, trovate un po' tutte queste best practice linee guida e come Microsoft pensa di indirizzare questi problemi nel futuro. Basta, questo era un po' come aggiornamento, forse finale, possiamo dire, a questa parte della vicenda, poi dopo in futuro sicuramente verranno fuori altre cose da qua. Questo è il momento zero della nuova gestione del software in kernel mode in Windows, non c'è dubbio, quindi nel futuro vedremo un po' cosa cambierà. Ma insomma, vi ho detto che ci sono due notizie interessanti oggi, vanilla e l'hardware fallato di Intel, andiamole a vedere. Oh, sono molto contento di parlare di VanillaOS 2, naturalmente questa è solo una news, non è che sia una recensione del sistema, io non l'ho provato, se volete provarlo lo scaricate, ve lo provate voi, su una macchina virtuale, magari quello che vi pare, ma ne voglio parlare perché VanillaOS è un progetto italiano, un progetto guidato da Mirko Brombin, con cui io avevo parlato in una puntata di Continuous Delivery, quindi se ve la cercate sul canale di Continuous Delivery ve la trovate, con Mirko Brombin e con Luca Di Maio, e come avevamo parlato di VanillaOS e di Distrobox, su cui poi alcune cose di Vanilla sono basate, ma insomma, che cos'è VanillaOS? Molto rapidamente è una distribuzione Linux, creata appunto da questi ragazzi, che si basava su Ubuntu, adesso si basa su Debian, e qual è il punto cardine di VanillaOS? L'immutabilità, sapete che è un paradigma che negli ultimi anni Linux ha diffuso moltissimo, perché permette appunto un rapido rollback del sistema operativo, in caso di un fallimento dei driver appunto, come è successo con CrowdStrike, perché crea delle immagini, degli snapshot del sistema, e installa pacchetti e alcune funzioni critiche in container, quindi isolate dal resto del sistema, ma non scendiamo troppo in dettaglio, andiamo a vedere invece che cosa offre la seconda release major di VanillaOS, che si chiama Orchid, e qui c'è una recensione in realtà, ma non proprio una recensione, un'anteprima ecco, di Itzfoss, che l'ha provata e ci dice qualcosa, ne parla in modo molto entusiasta tra l'altro. Questa è una distribuzione che si concentra sull'immutabilità e su una facile esperienza d'uso, quindi un'esperienza per l'utente facilitata, con il desktop GNOME di default. Allora intanto in questa major release, come ho detto, sono passati da Ubuntu, come base, a Debian. E che cosa c'è di nuovo? Beh, si mantiene inalterato l'approccio di Vanilla nell'offrire le distro, una distro immutabile, che però sia facilmente gestibile da tutti gli utenti che neanche conoscono, neanche capiscono che cosa vuol dire immutabilità, ma insomma rende questo approccio trasparente, quindi fornendo un sistema che è sicuro, è stabile, e può essere messo in mano anche agli utenti inesperti, ma offre anche grande flessibilità invece agli sviluppatori, ai più smanettoni. Quindi le caratteristiche principali elencate qua di XFOS sono, in questa nuova release, la base che diventa Debian, con GNOME 46, poi il nuovo Vanilla System Operator, VSO2, che è Package Manager e Shell di Vanilla, poi vedremo qualcosa di meglio in dettaglio, l'APX Developer Tool, ora APX è il tool di Vanilla per gestire i layer in virtualizzazione, in container del sistema operativo. E con la nuova release di APX è anche più facile gestirlo perché c'è una GUI, c'è un'interfaccia grafica, poi vedremo qualcosa. Poi ci sono gli Smart Updates, che sono degli update che vengono eseguiti in background e in momenti in cui il sistema è stabile, e quindi facilitano anche un update proprio trasparente di tutti i pacchetti del sistema per l'utente, e poi il supporto agli APK. Gli APK sono il formato di pacchetti per Android, che ora sono ufficialmente supportati da Vanilla, come se fossero software da installare comunemente nel sistema. Si parte, vedete, un po' di screenshot dall'installazione, che è stata migliorata nel processo, nella interfaccia grafica, nell'esperienza utente, vedete che si parte dalla scelta del layout, e poi dice XFOS, siccome ho installato Vanilla OS in una macchina virtuale, mi ha subito chiesto di installare anche i VM Tools, che mi danno qualche opzione in più con le macchine virtuali, una cosa molto carina. Dopodiché si può scegliere quali applicazioni preinstallare, quindi c'è, vedete, una scelta tra alcune installazioni, core, office, utilities, insomma si può andare a scegliere anche i browser, quali sono le applicazioni di default che si vuole attivare. E una cosa anche interessante, quando viene richiesto di inserire la password dell'utente, ecco, non vengono accettate le password troppo semplici, per esempio admin come password non viene accettata, bisogna avere un minimo grado di sicurezza in questa password, è una cosa che non tutte le distri Linux fanno, quindi ecco un piccolo upgrade al livello di sicurezza che comunque ritengo gradito. Ecco, quindi poi se siete abituati a utilizzare la shell, naturalmente installate e disinstallate pacchetti con API T, potete poi usare API X da linea di comando, ma ora potete usarlo anche con una nuova interfaccia grafica, che vi permette di creare un ambiente al volo proprio, con la distribuzione che volete, con i pacchetti che volete, isolato dal resto del sistema. Per esempio, siete sviluppatori, volete mettere su un ambiente al volo per provare a compilare una nuova app in Python, con il suo environment, il suo editor, il suo runtime, non lo so. Ecco, vi create un nuovo layer con API X, un nuovo container, lo configurate e questo parte isolato, potete farci quello che vi pare senza intaccare il resto del sistema. Questo è un po' API X e la GUI è proprio quello che faciliterà l'ingresso di nuovi sviluppatori che potranno sfruttarlo senza doversi imparare i comandi da command line. Questa invece è una schermata che riguarda le smart update, vedete che è settato di default sul weekly, quindi vengono aggiornati settimanalmente e poi c'è l'ultimo kernel Linux 6.9.8. Le release notes di VanillaOS 2 sono molto lunghe e complete e vi consiglio di andare a leggere se vi interessa questo tipo di approccio, questo tipo di distribuzione. Andate su vanillaos.org, sul blog, si intitola VanillaOS 2 Orchid Stable Release, trovate tutte le release notes con un sacco di screenshot, un sacco di novità spiegate. Per esempio io ci ho trovato di molto interessante questa utility, Prime Utility, che vi consente di switchare la scheda grafica, quindi se avete un laptop con scheda grafica integrata e scheda grafica dedicata, potete switchare tra le due con un pannellino grafico, molto figo, molto comodo. E poi un nuovo sistema integrato di gestione delle app, dei pacchetti che supporta di tutto, da FlatHub alle app Android via FDroid, e quindi vi consente di avere tutto questo sistema integrato, con le app che preferite, tutte aggiornate in Smart Update, insomma un'esperienza abbastanza unificata e piacevole. Anche poi le policy di sicurezza, non solo una password che abbia una struttura minima, ma anche tutte le policy per gestire in maniera più dedicata, più dettagliata, cosa possono fare i vari utenti, ecco tutte gestite da Polkit. E poi ecco, ultima cosa, il Vanilla Image Builder, questo è un tool che piacerà tantissimo a chi adora customizzare ogni singolo aspetto del proprio sistema, ecco con il Vib, il Vanilla Image Builder, è possibile creare delle immagini docker di Vanilla con un editor personalizzato, cioè con un formato di file personalizzato da Vanilla, dove vedete si può configurare tutto, anche i pacchetti installati, insomma un po' tutte le cose, una propria immagine, una propria versione di Vanilla customizzata che poi si può distribuire, e questo è praticamente un precompilatore per immagini docker, cioè da questo file poi si ottiene un'immagine docker che si può a questo punto portare in giro, installare, eccetera, quindi è per crearsi una propria versione distribuibile da poi mandare in giro. E poi se volete approfondire ancora di più, sempre sul blog di Vanilla OS, trovate Discover Apix V2, che è una spiegazione di che cos'è il nuovo Apix, cioè il gestore per creare nuovi ambienti customizzati, isolati, eccetera, insomma con anche tutta la nuova interfaccia grafica. Comunque, mega complimenti al team di Vanilla OS, a Mirko Brombin, a tutti gli altri, distribuzione orgogliosamente italiana, questo lo diciamo noi perché siamo un po' campanilisti in questo caso, quindi Vanilla OS è un sistema, è una distribuzione che sta ottenendo un ottimo successo a livello internazionale, è inutile negarlo, siamo contenti che questa roba arrivi da un team italiano. Bene, passiamo ora al secondo argomento della giornata. Da qualche mese c'è un problemino che affligge i possessori di CPU Intel di tredicesima e quattordicesima generazione. Il problemino, molto banale, è che le CPU crashano, crashano in maniera apparentemente inaspettata, inspiegabile, non dovuta a una configurazione del proprio hardware, alla propria scheda madre, ad altri device connessi, no, no, pare essere un problema dovuto proprio alla CPU, a un problema costruttivo e Intel l'ha finalmente riconosciuto. Insomma, Intel ha detto che ha scoperto che queste issue di instabilità che per realtà portano a veri e propri crash che affliggono i processori appunto di tredicesima e quattordicesima, quindi delle ultime due versioni dei suoi processori, ecco, sono dovute a un elevato voltaggio operativo e sta arrivando una patch per correggerlo. Dice Intel, abbiamo determinato che questo elevato voltaggio operativo sta causando i problemi di instabilità su qualche, ecco, desktop processor, quindi processori per desktop, i laptop, se non essere esclusi da questo, quindi di tredicesima e quattordicesima generazione, quindi le ultime due, l'attuale e la precedente. Questo elevato voltaggio arriverebbe da un problema in un algoritmo nel microcode, nel microcode, che risulterebbe in una richiesta da parte del processore di un voltaggio troppo elevato, quindi praticamente si brucia da solo. Intel poi dice che sta lavorando per rilasciare una patch del microcode per tutti i produttori di schede madre, quindi per tutti gli OEM di Intel, le terze parti che producono schede madri per Intel, che sarà rilasciata a metà agosto. Perché deve rilasciare la scheda madre? Perché questo microcode patch deve passare dal BIOS, cioè è un aggiornamento che dovrà passare dal BIOS, quindi se voi avete una scheda madre con un processore Intel 1314, ecco, dovrete passare da un aggiornamento del BIOS per poter installare questo nuovo microcodice. Ecco, quindi Intel ha confermato questo problema che in realtà molti avevano riportato già da aprile, e in particolare molti videogiocatori che avevano trovato questa instabilità nei processori top di gamma dedicata al desktop, che in genere è un mercato proprio per i videogiocatori, cioè i Core i9, o i9, 13900K e 14900K. E tra l'altro in queste ultime settimane la pressione intorno a Intel si era intensificata, molti produttori di videogiochi, tra cui per esempio Alderon Games, produttori di Path of Titans, hanno appunto dichiarato che tanti dei loro giocatori stanno riportando questi crash e loro li vedono dai log, perché sono videogiochi online, quindi hanno i crash report dei loro videogiocatori. E c'è anche un video YouTube di GamerNexus, che è uno YouTuber molto noto nell'ambito del PC game, ecco che dice di non raccomandare Intel, perché appunto ci sono questi problemi. Tra l'altro, come dice D-Day, i videogiocatori nei mesi scorsi avevano puntato il dito contro Nvidia, perché la libreria che faceva crashare tutto era praticamente una libreria di Nvidia, che è NVU GPU Comp64.DLL, insomma una libreria di Nvidia su Windows che faceva crashare il gioco, ma Nvidia aveva risposto che in realtà il problema non è del suo hardware o delle sue librerie, ma ha un problema di comunicazione tra CPU e GPU, quindi a crashare era proprio la CPU. E infatti guardando proprio questo grafico postato sul forum di un gioco, vedete che la maggior parte dei processori che crashano sono proprio processori Intel di versioni i9. Poi Intel aveva subito risposto mettendo le mani avanti dicendo che no, il problema è dovuto alle schede madri che utilizzano profili troppo aggressivi, quindi danno troppo voltaggio alle CPU e questo potrebbe farle crashare, però poi ora come abbiamo visto si è scoperto che ed hanno ammesso gli stessi di Intel che il problema è dovuto a un loro errore, al loro microcode. Quindi problema risolto, la patch al microcode verrà distribuita a metà agosto e tutti saranno contenti? Beh, mica tanto perché se voi avete già avuto problemi con le CPU dovute a proprio a questo problema quindi a un voltaggio esagerato che le ha fatte friggere, ecco questa roba qua non vi risolverà il problema a pregresso. Probabilmente impedirà che questo si verifichi in futuro, ma se vi è già successo il processore è andato e l'unica cosa che potete fare è rivolgere i Vintel per farvelo cambiare che poi bisognerà anche vedere come funzionerà la garanzia eccetera poi vedremo alcune risposte non proprio confortanti da parte di Intel. È il momento disegnino, è il momento disegnino perché adesso ho parlato di microcode, ho parlato di CPU Intel, ho parlato di cose che fanno friggere le CPU e allora che diavolo è questo microcode? Ho fatto il disegnino mi sono fatto aiutare anche da un po' di intelligenza artificiale per scrivere un po' di codice veloce ma insomma per farvi capire che diavolo è questo microcode e perché può friggere una CPU. Allora qui ho recuperato un po' se vi ricordate se avete visto il mio video sulla gestione della memoria ho recuperato vedete proprio la parte che gestisce qua la memoria di un programma l'esecuzione di un programma e poi la parte di CPU con le sue esecuzioni i suoi registri e la sua cache ma ho aggiunto delle cose adesso ve le spiego perché quando diciamo che la parte di CPU è tutta questa ok qui nel mio disegnino originale sulla memoria avevo scritto CPU in realtà per andare più in concreto ecco la CPU è tutta questa parte è la parte che prende le istruzioni della memoria e poi le va ad eseguire proprio sul suo hardware questa parte centrale dove le operazioni vengono fisicamente eseguite si compone di alcune unità in particolare quella di esecuzione e quella di controllo non ci interessano adesso nello specifico ma sapete che qua è dove avviene la magia cioè qua è dove avvengono proprio i calcoli effettivi ma se partiamo più dall'alto cioè dalla memoria quando un software è in memoria quando un software sta girando in memoria naturalmente viene compilato viene messo vengono messe le istruzioni nello stack come abbiamo visto e poi queste vengono passate alla CPU come funziona questo passaggio? allora questo passaggio avviene in queste tre fasi cioè la fase di fetch la fase di decode e poi la traduzione in microcode eccolo qua il nostro il nostro amico microcode che succede? guardate qua ho scritto un pezzetto di semplicissimo codice C aspetta che qua magari vedete il mio faccione e non dovete ecco sposto un po' in là le cose ecco allora qua ho scritto un pezzettino questo codice C è validissimo quindi vedete ho fatto A uguale 5 B uguale 3 e poi C uguale A più B quindi una semplicissima istruzione che dice di sommare due numeri praticamente di metterli in una variabile benissimo cosa succede quando questo codice viene compilato? che viene compilato in linguaggio assembly per l'architettura hardware di riferimento nel caso di processori Intel quindi siamo nel reame dell'X86 quindi nel reame delle architetture CISC non vi sto a dire troppe differenze tra CISC e RISC ma giusto per completezza sapete che esistono questi due mondi il mondo CISC e il mondo RISC il mondo CISC ha delle istruzioni che sono più complesse cioè possono essere ogni singola istruzione può essere più complessa può contenere più cose più codice e quindi vedete che la parte di qua la parte di assembly RISC è più lunga perché ogni istruzione deve essere più semplice RISC è un set di istruzioni semplificato quindi ogni istruzione è più semplice e quindi risulta in un numero maggiore di istruzioni in realtà rispetto al CISC però vedete quando abbiamo il CISC quindi l'assembly per x86 compilato dal codice C vedete che abbiamo queste tre istruzioni ecco guardando questo codice assembly e sapendo che viene detto linguaggio macchina voi potreste pensare che la macchina quindi proprio l'hardware le connessioni fisiche leggono direttamente e interpretano ed eseguono queste istruzioni senza passare ad ulteriori livelli e non è così non è così perché c'è un ulteriore livello di mezzo che è appunto il microcode cioè questo codice viene tradotto in una serie di bit questa serie di bit sono quelli che poi istruiscono esattamente l'hardware a più basso livello quindi le connessioni elettroniche di come funzionare quindi vedete qui nell'assembly ci sono indicati dei nomi quindi eax eax è il nome di un registro vedete qua vi ho fatto nella grafichetta eax sarebbe un registro poi ci sono altri registri come ho messo edx ecx questi sono nomi di registri nell'architettura CISC nelle architetture RISC invece si chiamano così R1 R2 R3 è un po' più semplificata quindi come dicevo da questo codice assembly si passa al microcode qui ho fatto tradurre probabilmente un po' a caso da Claude di Antropic questo assembly in microcode anche perché il microcode degli x86 è chiuso noi non possiamo possiamo fare del reverse engineering ma non possiamo vedere non è open source il microcode ma insomma per farvi capire che è una serie di bit e ognuno di questi bit dice qualcosa proprio all'hardware quali servizi quali registri accendere quale parte della ALU che è l'arithmatic unit accendere quali circuiti insomma proprio sono istruzioni a bassissimo livello che come vedete potreste più o meno mappare sulle relative istruzioni assembly quindi ognuna di queste righe con dei bit potreste mapparla a un'istruzione assembly tipo di load di add e questa istruzione finale che incrementa il program counter che è praticamente un altro registro che dice alla GPU a quale istruzione del programma siamo arrivati quindi capite che qui dentro ci possono essere delle istruzioni che attivano o disattivano alcune parti specifiche dei circuiti e quindi possono anche richiedere più o meno voltaggio per certe insomma applicazioni specifiche per certe istruzioni quindi ci possono essere degli algoritmi che sfruttano che ottimizzano al massimo queste istruzioni per sfruttare proprio i circuiti l'hardware sottostante e quindi raggiungere le massime prestazioni quindi capite che stiamo parlando sempre di programmazione anche se di microprogrammazione programmazione a bassissimo livello però come tutto il codice può avere dei bug può avere dei difetti qua Intel ha riconosciuto che in uno di questi algoritmi quindi in una di queste istruzioni del microcodice c'è un problema il problema causa una richiesta di voltaggio esagerata per la CPU che quindi viene fritta l'update l'aggiornamento sarà di cambiare quell'algoritmo specifico e di tradurre quindi una di queste istruzioni con un altro algoritmo che sarà più conservativo insomma e quindi questo risolverà il problema in futuro questo nuovo codice quando verrà aggiornato ecco verrà direttamente sparato come aggiornamento del BIOS sulle schede madre che questi quindi prenderanno questo nuovo codice lo flasheranno nel firmware della CPU e quindi gli utenti che utilizzano questa CPU in futuro non avranno problemi questa era la spiegazione del microcode del microcode cioè quanto mi diverto io a scrivere queste cose spero che vi divertiate anche voi a sentirle a leggerle a guardarle perché altrimenti questa cosa non serve a niente ma insomma è piccola lezione di microcode ma insomma per chiudere questa vicenda bisogna vedere che cosa ha risposto Intel dopo aver riconosciuto questo difetto nei processori quindi di fatto dopo aver riconosciuto che sta mettendo in vendita sta attualmente vendendo processori che includono un difetto di produzione ecco ha risposto a delle domande di Deverge che gli ha fatto in questo bell'articolo non ve lo leggo tutto però vi leggo le risposte di Intel la prima domanda è ci sarà un richiamo dei processori Intel risponde no poi Deverge gli chiede ci sarà un warning un avviso per tutti quelli che stanno comprando delle CPU in questo momento che ci potrebbero essere dei problemi e che sarà necessario un update ad agosto insomma ci sarà un avviso ai clienti di queste problematiche Intel risponde che ci sarà questo update al microcode in agosto poi che raccomanderà gli utenti di aderire agli standard di Intel default setting sui processori sul BIOS per evitare problemi insomma praticamente no non ci sarà nessun warning poi la domanda diretta avete interrotto le vendite la risposta no poi se questa patch sarà efficace per i processori che sono in servizio in questo momento non hanno mostrato dei sintomi ma potrebbero comunque essere affetti da una degradazione progressiva invisibile dovuto appunto al problema del voltaggio Intel dice che questa patch sarà efficace come soluzione preventiva per i processori che sono in servizio quindi che impedirà che i crash insomma grossi si verifichino e che sarà possibile anche che ci saranno miglioramenti all'instabilità dei processori attuali però comunque se qualcuno ha questi processori e ha sperimentato questi crash e questa instabilità deve rimandarli indietro deve contattare Intel il supporto cliente di Intel per farseli sostituire in pratica se il crash è avvenuto se il problema si è già verificato quei processori sono irrecuperabili non sarà un aggiornamento a microcode che risolverà quella problematica quel processore è da buttare altre domande ci sarà un'estensione di garanzia nessuna risposta quali prove i clienti dovranno portare per dimostrare che il processore è stato affetto da questa problematica e ottenere quindi una sostituzione non c'è nessuna risposta ancora quindi queste domande non hanno una risposta perché secondo me stanno venendo scritte ecco con un pool di avvocati che capiranno meglio come poter indirizzare questo problema senza distruggere le vendite attuali di Intel sul mercato perché questa problematica come potete capire è molto impattante per Intel poi interessante la domanda sulle scorte di magazzino perché siccome le CPU di tredicesima generazione non sono più in produzione e le ultime spedizioni sono state effettuate lo scorso mese come faranno a sostituire queste CPU degli utenti che appunto che le rimanderanno indietro e in realtà non si capisce la risposta perché dice a Intel che sta lavorando con i propri clienti per garantire che chi ha questi problemi verrà sostituito insomma verrà assistito e gli verrà data una sostituzione però insomma boh non si capisce non si capisce come faranno se non hanno più scorte questo dice riguarda anche le CPU di quattordicesima generazione e insomma in definitiva se avete un problema con le CPU Intel di questa o della scorsa generazione dovete contattare il supporto cliente di Intel applicare questa patch a microcode potrebbe migliorare la situazione in futuro e impedire che si verifichino ulteriori problemi di stabilità o crash ma se avete già una CPU che ha avuto questi crash è da buttare se non li avete avuti è possibile che comunque le sue prestazioni si siano degradate perché quell'algoritmo comunque c'era quindi una richiesta di voltaggio eccessiva potrebbe essere stata comunque fatta e quindi la CPU pur senza mostrare sintomi potrebbe essersi degradata quindi il consiglio comunque è di sentire il supporto cliente di Intel e provare a ottenere una sostituzione di CPU che magari Intel produrrà con già il nuovo microcodice scritto nel firmware questo non lo sappiamo però potremmo immaginarlo e insomma una bella bega per Intel qua non si sta parlando di problemi verificati in alcune condizioni particolari di contesto eccetera no qua si sta parlando di intere linee di produzione fallate con microcodice buggato questa roba qua è veramente impattante poi la risposta di Intel come avete visto è un po' insomma ondivaga non è che proprio richiameranno le CPU anche perché per loro vorrebbe dire richiamare praticamente tutto il mercato perché le tredicesime e quattordicesime sono le ultime generazioni che hanno fatto vorrebbe dire richiamare tutto un costo spropositato tra l'altro in un momento in cui produrre chip non è esattamente una cosa agevole ma insomma questo era il grosso problema hardware di Intel spero di avervi dato un quadro a lunghissima vi do due link veloci in chiusura il primo un repo github si chiama Cloudflare no IP alternative se voi avete un IP in casa e state utilizzando servizi di dynamic DNS per avere un nome DNS insomma per il vostro setup domestico e che magari state pagando un servizio di dynamic DNS sappiate che potete sfruttare Cloudflare per ottenere la stessa cosa praticamente ma senza pagare niente questo qua è un un software che tramite il vostro tramite un cronjob e il vostro account Cloudflare vi dà praticamente la stessa cosa un nome dominio registrato su Cloudflare che però ecco non ha bisogno di essere pagato costantemente per essere collegato al vostro IP ma tramite un cronjob si refrescia costantemente quindi Cloudflare no IP lo trovate su GitHub insomma un programmino che potrebbe fare la gioia di alcuni di voi e infine un articolo di OMG Ubuntu sul nuovo kernel Linux 6.10 praticamente delle release notes e qualche commento sulle nuove caratteristiche del kernel Linux 6.10 non ve le ho elencate come news perché se no non si finiva più ma insomma se vi interessa ve lo leggete trovate su OMG Ubuntu si intitola Linux kernel 6.10 released this is what's new ho finito qui c'è un caldo pazzesco pure solare condizionata accesa non so come viverò il resto della settimana spero di andare in vacanza molto presto spero che anche voi andate in vacanza molto presto o magari siate già in vacanza mi farebbe piacere per voi all'agosto comunque grandi vacanze grandi cambiamenti domani grande live alle 13 mi raccomando se vi va ci facciamo una bella chiacchierata sulla chiusura di questo progetto di questo podcastino e su cosa potrà risalvarci il futuro il futuro di questo canale il futuro di questa divulgazione anche le vostre se ne avete le vostre considerazioni insomma intanto grazie per aver seguito questa puntata e anche grazie per avervi seguito e supportato durante tutte le puntate di questo podcast noi ci vediamo domani ciao